I palazzi interamente occupati nella capitale sono ben 92 e in molti casi si tratta di ghetti in cui regnano degrado e illegalità. Come questo. Un palazzo di otto piani che nella lista dei 20 immobili da sgomberare stilata dall'ex prefetto Piantedosi compare all'ottavo posto. Da vent'anni pian piano è diventato un covo della criminalità. Tanto che viene presidiato notte e giorno da vedette che controllano ogni movimento intorno all'edificio Eximptap di proprietà di un fondo immobiliare le cui perdite in termini di utenze e tasse supererebbero i 20 milioni di euro. Oggi qui dentro vivono 500 persone per lo più rifugiati che sembrano rispettare in silenzio le regole imposte dai capi. Abbiamo ovviamente prostituzione, abbiamo droga e abbiamo il raggetto degli affitti e delle vendite a nero dei posti letto. e che per il fatto che hanno un servizio sulle varie occupazioni di Roma? Non potete parlare? No, no. C'è altre persone. Posso disturbare? Sono una giornalista. Non potete parlare. Non si può entrare? No. E' ora di andar via, ma scorrendo la lista degli immobili attenzionati per gli sgomberi al numero 14 troviamo questo palazzo di proprietà della Fondazione Nasarco, ex sede del Ministero della Difesa, che oggi ospita 300 persone. Un altro edificio in disuso trasformato in zona franca, dove lo Stato non esiste e dove ci viene impedito di accedere. Stavolta però dietro questa occupazione decennale c'è uno dei movimenti per il diritto all'abitare. Lo stesso che in questi giorni al centro dello scandalo sulle presunte chat che vedrebbero l'assessore Tobia Zevi discutere del piano Casa di Roma con i leader delle occupazioni abusive. Insomma, il quartier generale del Movimento avrebbe sede proprio nell'ex caserma occupata di via del porto fluviale. Lo stesso edificio per l'acquiri qualificazione nell'ottobre scorso il Comune ha approvato un progetto da 11 milioni di euro, che prevede anche la regolarizzazione degli occupanti. L'invito è relativo proprio alla conferenza stampa con cui il Movimento risponderà alle accuse. Dovete decidere voi di farmi entrare. Nominale adulti Dospç встречe sul declane Il Movimento RA Internet Il Movimento Il Movimento Grazie a tutti.